Sentiamo, quale copione hai studiato questa sera? Io sono una persona profondamente... Io non studio nessun copione, lo sai benissimo. Tu ogni giorno scrivi un copione. Fammi parlare. Però dovresti fare la teoria. Prima di tutto, prima di tutto, sono una persona profondamente e principalmente spirituale. Mica tanto. Secondo. Mi sembra. Secondo. Se tu sei spirituale devi rispettare quei momenti. Io tengo tantissimo alle tradizioni, non solo natalizie, ma in generale le tradizioni, soprattutto natalizie, tanto che ho partecipato con molta commozione all'albero e ai decori. Faccio con i miei figli sempre sia il presepe che l'albero, quindi non andare in giro a dire questa cosa. Cosa? Abbiamo appena finito di fare una cena di compleanno con pizza e birra, quindi chiamarci in confessionale in quel momento per commentare con la giusta retta. L'albero avevamo appena messo l'albero. No, 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 caro Massimiliano. Allora forse vi hai bevuto troppo. No, caro, avevamo appena finito di cenare. Ma è stata la birra. Prima abbiamo fatto l'albero, poi abbiamo fatto il compleanno di Marco Grace, abbiamo mangiato la pizza e la birra e ci hanno chiamato in quel momento in confessionale a commentare l'albero che avevamo fatto due ore prima. Ho visto come bevevi la birra, forse ne hai bevuta un po' troppo. No, chiaramente no, semplicemente la bevo come si beve la birra, non è che la troppo. Sì, a schianto come si dice in toscana. No, 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 no.